Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene e che stiamo trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio affrontare una tematica che sia su Telegram che insomma in passato sotto i miei video realizzati sul Torino è uscita parecchie volte. Voglio dire il discorso di Vagnati, del dettore sportivo appunto del Torino e vorrei un po' dire la mia perché il discorso sport ha riportato una notizia che un pochino mi ha lasciato non deluso però stupito in negativamente e vi dico io non vi parlo a tifoso del Toro è normale che tratto molto il Torino perché comunque una gran parte della mia community ti fa Torino perché comunque si parla spesso di argomento e perché gli argomenti appunto nascono ed escono ogni giorno riguardo appunto queste vicende però poi mi leggo sempre all'attualità mi informo, cerco notizie e in questo caso, ripeto, sono stato sorpreso o meglio non sorpreso perché me la potevo aspettare dal pensio di Vagnati però un po' stupito un po' stupito e perplesso per questo ipotetico interessamento a parte del Torino per un giocatore ovviamente voglio parlare molto in modo fluido in questo video quindi mi raccomando come sempre iscrizione, like, campanellina e passatemi a trovare appunto su Telegram Sky riporta che Vagnati sarebbe interessato a portare Grassi al Torino dopo una stagione un po' così con il Cagliari nonostante abbia giocato comunque un buon numero di partite però in questo caso qualora fosse vera, perché poi metto in dubbio tutto finché poi non è confermata la cosa si capisce un pochino la filosofia di Vagnati e in un certo senso anche secondo me la scarsità dello scouting del Torino molti giocatori che sono stati accostati dal Torino quelli un po' meno conosciuti magari secondo me sono stati proposti perché d'accordo ho capito che un direttore sportivo possa avere un certo tipo di rapporto con alcuni calciatori è normale, si stringono i rapporti anche nel calcio umani, ti fidi di una persona però se un Juric ad esempio chiede un Vlasic anche se non si parte dello stesso ruolo ma capiamo la caratura del calciatore cioè tu vuoi riportare un ennesimo giocatore che hai avuto alla SPAL Fares ok poi Sec e va bene poi si è parlato di Bonifazi ok CTP Torino però boh vabbè ora Grassi allora ipotizzando che queste cose quantomeno quelle di Grassi e di Bonifazi siano reali perché poi potrebbero essere anche insomma delle non dico delle dimensioni giornalistiche però magari la gente che butta lì in nome per scatenare un mercato per creare opportunità qualora fossero vere e in parte sono portato anche al 50-60% a credere che siano vere trovo un po' inammissibile che si parla di Nelson si parla di Faes si parla di Flavio del Ghiresun Spor si parla di Vlasic e poi esce il nome di Grassi cioè tu perdi Pobega perdi Mandragora e poi si parla di Grassi che magari è stato il procuratore stesso di Grassi magari a proporlo al Torino sapendo il il modus operandi di Vagnati e sapendo che al Torino serve un giocatore con quel tipo di caratteristiche più incontrista che altro però ripeto non lo so sono molto stupito sarei molto stupito di questa cosa ora staremo a vedere io non voglio dare conclusioni poi che diciamo che non si confa molto al mio modo di pensare al modus operandi di Vagnati perché si è andato a buttare su profili che costavano un botto quando tu hai poco da investire allora cosa ci va a fare se io ho 5.000 euro di budget per comprarmi una macchina non vado a vedermi una Tesla di seconda mano anche mi compro una macchina del budget che per me può essere ottimale rientra appunto il mio budget ma che allo stesso tempo mi è funzionale nel gergo nerd si può dire mi fitta quindi unire la funzionalità al minimo della spesa magari questa funzionalità non dura per 50 anni ti dura per 3, 4, 5 anni però prima devi crearti una sorta di budget devi fare un planning che ti porta alla scadenza di 5 anni a reinvestire in modo un po' più intelligente allora perché vai su quei profili o se hai quantomeno il 30% di riuscita oppure non fai quel tipo non vai su quel tipo di giocatori perché dopo Faes non lo so ecco Faes Nelson questo quest'altro e mi arriva Bonifazi capite bene è che il discorso non vale più di tanto cioè secondo me è un po' demagogico tu dai ai tifosi un messaggio che poi non puoi mantenere allora non lo dai quell'intervista che Vagnati ha lasciato a Sky il mio pensiero è stato il nulla cosmico il nulla cosmico quelle parole non hanno detto una cippa lippa sì si è capito che conosceva Dovbic punto altro attaccante al quale si è parlato 370.000 volte ha visitato Torino e poi chi è arrivato chi arriverà questo è il punto fondamentale ed è il punto fondamentale che secondo me i tifosi imputano Avagnati fondamentalmente la responsabilità di Cairo al netto di questi 17 anni che io ovviamente non ho vissuto in prima persona quindi i tifosi del Torino possono parlare meglio di me a parte alcuni investimenti però un po' così fatti vedi Zaza con un ingaggio allucinante vedi i verdi che ancora lo stanno ripagando e la responsabilità di Cairo nel senso il ruolo dell'imprenditore del capo del è quello di attorniarsi di persone capaci a effettuare un ruolo specifico nel senso l'imprenditore deve avere una dote principale la capacità di scelta e il fiuto cioè la capacità di scelta unita al fiuto questo è vero la giusta persona al posto giusto secondo me secondo me dopo l'esperienza anche di Petrachi la mia opinione è che non vedo Vagnati la persona giusta per gestire un certo tipo di mercato perché tu c'è carenza sinistra e mi va a prendere un faresco in tutto quell'excursus di infortuni anche se non sono in prestito quando tu vuoi prendere un Bonifazi che non ha mai giocato titolare se non nella spalla di Vagnati che era un altro contesto era una squadra che si doveva salvare non una squadra che è arrivata lì per andare in Euroconference se tu ti affidi un SEC che per quanto possa avere le sue doti va bene va benissimo non c'è problema per uno che alla spalla non giocava titolare se tu devi andare da un Grassi che ha avuto alla spalla ma che dopo ha avuto titolare qui ma non ha convinto il Parme da anni che lo sbologna non lo so non lo so tifosi del Torino e non fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate ovviamente vi ricordo sempre di iscrivervi al canale il like le campanelline e passatevi a trovare su gruppo Telegram dove non si parla ovviamente su di Torino ma di tanti altri argomenti vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi